Benissima, sembrava qualcosa che si veniva raccontato ma che non avrebbe mai potuto toccare un comune come Roma, la mia città. Poi se penso, se richiudo ancora gli occhi e penso agli anni 90, l'anno 90 ci sono state le immagini che ancora ho scolpite nella mente e nel cuore come tanti di noi, come tutti in questa piazza della strage di Capace e della strage di Via D'Amelio. Poi chiudo ancora gli occhi e penso agli anni 2000, la mafia era a Gomorra, stava sviluppando, crescendo, tessendo reti internazionali. Poi chiudo ancora gli occhi e penso a quel 3 dicembre 2014 quando mi sono svegliata come cittadina di mafia capitale e non più di Roma. Poi apro gli occhi e vedo questa piazza, vedo voi, vedo noi, sento questo grido, sento che c'è una speranza per questa città, che c'è una speranza per questo paese.